Siamo qui oggi all'Auditorium della Tecnica di Roma per la giornata di apertura del Festival delle Carriere Internazionali. Questo festival è un'occasione di incontro e networking tra giovani, istituzioni, società, organizzazioni non governative e internazionali. L'ottava edizione del festival si terrà dall'11 al 14 marzo 2017 nella splendida cornice della città di Roma presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria e l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Il festival è ideato da Giovani nel Mondo, un'associazione no profit nata in Italia per favorire l'incontro tra il talento dei giovani e il mondo delle opportunità internazionali. I partecipanti possono scegliere all'interno del festival il percorso più adatto a loro, in base alla propria esperienza accademica e alle proprie ispirazioni lavorative. Il festival è composto da cinque progetti principali. Rome Model United Nations è una simulazione delle Nazioni Unite per chi è appassionato di relazioni internazionali. Permette di esplorare le dinamiche dell'ONU e il funzionamento di tutti i suoi organi. Rome Business Game è una simulazione di case studies aziendali dedicata a chi è interessato ad approfondire le proprie conoscenze e abilità nell'ambito del management e dell'economia. Rome Press Game è una simulazione di attività giornalistiche a tre livelli, web, radio e televisione, indicata per chi vuole approcciarsi al mondo dei media e della comunicazione. International Careers Course è un corso pratico di orientamento alle carriere internazionali consigliato a chi è desideroso di intraprendere una carriera proiettata oltre i confini del proprio piccolo mondo. International Careers Fairs, la manifestazione è pensata per valorizzare le ambizioni di ragazzi e ragazze che vogliono sedersi al tavolo delle opportunità professionali e mettersi in gioco con stage e offerte di lavoro che permettono di assaggiare una preciosante prima del proprio futuro. Questa credo che sia una bellissima opportunità per tantissimi giovani che provengono da tanti paesi diversi di confrontarsi, di conoscersi non solo tra di loro ma anche con dei professionisti che si stanno già impegnando all'interno di alcune organizzazioni internazionali. Perché è importante orientarsi verso una carriera internazionale? Perché è importante avere comunque la capacità soprattutto tra le nuove generazioni di dialogare l'una con l'altra, di affrontare nei fori internazionali prevalenti insieme le soluzioni possibili per un mondo globalizzato. Siamo molto eccitati e contenti di vedere facce così diverse, ragazzi da paesi veramente da ogni angolo del mondo riuniti qui con un sogno comune, con un obiettivo comune e non può che riempirci di orgoglio. È stato senz'altro per me un onore essere invitata con altri speaker di altissimo livello a parlare ai giovani di un'esperienza come quella del dottorato di ricerca che non solo può aprire una carriera di ricerca scientifica ma per la maggior parte dei ragazzi può fornire degli strumenti molto utili per una carriera internazionale di tipo estremamente vario e diverso. Il Press Game è uno dei cinque progetti di punta del Festival delle Carrere Internazionali con simulazioni a tre livelli radio, tv e writing di quello che è l'esperienza giornalistica insieme a quello che è il lavoro fondamentale dei traduttori così da rendere ovviamente fruibile a livello ricomunicativo quello che sarà il Festival durante queste quattro giornate. Il mio consiglio sicuramente è quello di divertirsi e nello stesso modo impegnarsi. Questo è ovviamente un modo per capire quale vuole essere la propria carriera internazionale nel futuro. Let's do something together.